Sta andando in scena Broadway in uno dei più prestigiosi teatri della città, Rose Tattoo, ovvero la rossa tatuata di Tennessee Williams con protagonista Marisa Tomei. Uno spettacolo che delude, anche se la Tomei è in realtà bravissima. Ma facciamo prima un po' di cronostoria, cerchiamo di capire cos'è Rose Tattoo. È un testo scritto dal 1951 da Tennessee Williams, uno dei grandi drammaturghi del teatro americano, lo scrisse due anni dopo il tranche si chiama Desiderio, e venne scritto appositamente per Anna Magnani, di cui Tennessee Williams era amico ed era in qualche modo plateonicamente invaghito. La Magnani non era in grado di recitare sul palcoscenico in inglese, quindi si decise di farne un film e l'accordo fu che lo stesso Williams scrivesse la sceneggiatura e tutti i dialoghi. La regia fu affidata a un mestierante di qualità, Daniel Mann, era uno specialista nel portare i suoi attori e le sue attrici agli Oscar, infatti Anna Magnani vinse un Oscar e il film fu un candidato ben in otto categorie e ne vinse tre, oltre alla Magnani vinse la scenografia e la fotografia. Il film non è eccezionale, come non è eccezionale la commedia, che tuttavia ripropone alcuni degli elementi classici del teatro di Tennessee Williams, a cominciare dall'ambientazione nel sud, qui siamo nel Mississippi, e un'atmosfera torbida, dove la sensualità, l'attrazione anche erotica, gioca un elemento molto forte. La storia è quella di una donna chiamata Serafina delle Rose, il nome indica che è un'italiana che vive appunto nel sud degli Stati Uniti, che rimane improvvisamente vedova e scopre a poco a poco che il marito aveva un amante. Mentre gli viene rivelato in maniera anche volgare, in maniera plateale, questa relazione o queste relazioni adulterine del marito, comincia a essere corteggiata da un uomo che si chiama Alvaro Mangiacavallo. All'inizio lei resiste, ma poi a poco a poco si fa sedurre e decide di distruggere il vaso che contiene le urna del marito, scoprendo che non solo la tradiva, ma in realtà era un contrabbandiere e non faceva solo il camionista, come gli aveva sempre detto. Nonostante non sia un grande testo, la rosa tatuata dopo il film ha avuto almeno altre due versioni teatrali, una molto famosa con Maurice Stapleton e una molti anni dopo, negli anni novanti, con Mercedes Rull. Questa è la terza volta, anzi la quarta se contiamo quella originaria in cui viene messa in scena ed è decisamente deludente. Cerchiamo di capire perché. Il regista Trip Kuhlman, che peraltro è un regista che ha un buon curriculum, ha lavorato su Angels in America nella serie televisiva diretta da Mike Nichols, ha vinto a suo volto un hobby del teatro, decide di declinare l'atmosfere torbide, morbose di Tennessee Williams in una chiave farsesca. In altre parole, prende qualcosa che va in una dimensione sempre più drammatica e la trasforma in qualcosa che va in una dimensione comica. Noi sappiamo bene che delle volte la tragedia, se spinta all'estremo, diventa farsa, ma non è questo l'intento di Kuhlman. Lui gioca sugli stereotipi degli italo-americani, molte volte con degli effetti kitsch. In tutto ciò però bisogna dire che ci sono almeno due elementi di valore. Una scenografia un po' cervellotica ma efficace e soprattutto Marisa Tomei che conferma di avere un autentico talento. La Tomei ha vinto un Oscar con mio cugino Vincenzo e poi è stata candidata per altre due volte. Intorno a lei si sono raccontate tante leggende, perfino che il suo Oscar non fosse autentico, nel senso che Jack Palance, che io lo consegnò, avesse sbagliato a pronunciare il nome. Si tratta di balle, ovviamente. Certo che fu una sorpresa quando lei lo vinse perché quell'anno erano candidate almeno due grandissime attrici, Vanessa Redgrave, Judy Davis, ma c'era anche John Plowright. Insomma, un'attrice di sicuro talento, ma soprattutto versatile che va dalla commedia alla tragedia. Lei riesce a salvare in qualche modo questo spettacolo caricando di sensualità il personaggio di Serafina ma soprattutto giocando su questa scelta da farsa. Se non ci fosse lei lo spettacolo sarebbe assolutamente inguardabile. Con lei diventa un errore con una bella interpretazione. Un saluto da Central Park West. Serafina Serafina Grazie a tutti.